Siamo a Macomèr, questo è un uraque Santa Barbara, un uraque quadrilobatto scavato negli anni settanta e anche consolidato, è stato scavato dall'archeologo Alberto Moravetti e consolidato da Francesco Nicosia, dopo vedremo nei particolari come. Intanto qui possiamo vedere già le colate di cemento fra i blocchi proprio per tenerli insieme. Sul davanti è stato scavato anche un primo saggio di villaggio, di villaggio nuragico, che poi non è stato portato avanti. L'obiettivo degli scavi era quello di individuare le quattro torri e soprattutto di individuare i possibili collegamenti tra le torri, cosa che è stata impossibile a cercare, per cui ormai si occupa un ingresso singolo alle torri angolari con l'accesso, magari in funzione di silos o di magazzino. Abbiamo al centro il mastio centrale, l'accesso principale, che è sottovisa su due piedi, con una scala interna, al terrazzo di svettamento.